Ma che dici? Ma cosa dici? Ma non è vero? Ma non è possibile? Ma quando mai? Ma com'è possibile che tu sia andato a cena con Matteo De Mante? Invece sì! Invece sì! Ma perché lo pubblichi adesso? Ma perché lo pubblichi dopo soprattutto così tanti mesi? Semplice! Perché ho un canale YouTube e voglio succhiare i clout! Perché sono una cazzo di sanguisuga! Vi spiego meglio Ero a Santo Doro quest'estate in vacanza con i miei amici E mentre una delle solite mattine facevo la mia sala colazione a base di cibo molto buono e sano E guardando i miei soliti programmi televisivi di spessore molto alto Mi trovo lui! Mi trovo lui! Come una divinità appare! Colui che ha fatto Ex on the Beach Colui che ha purgato mezza Italia Matteo Diamante Che poi peraltro noi si vivevano a cazzo di appartamento di merda oggettivamente di merda E lui era accanto a noi Lui passava quei 3-4 giorni di vacanza con noi accanto Guarda un po' di chi sono vicino di casa Cioè anzi io sono vicino di casa loro Io sono arrivato dopo Ciao, io le imbacioni A un certo punto lui ci viene a chiedere dal nulla Ma perché non venite a cena con me? Poco puttana! Perché no? E siamo andati a cena a mangiare ostriche e champagne offerte da lui Amica! Non ci vedete? Non ci vedete? Semplici Mostra la lip Vai? Mostra la lip Mostra la lip Mostra la lip Mostra la lip Grazie mille Grazie mille Adore A voi A voi Ai miei nuovi vicini Vaghe Roberta Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Non te l'aspettavi Non te l'aspettavi Poi la sera chiaramente abbiamo fatto un giro con Diamante Abbiamo sfruttato l'opportunità di stare con una persona di alto spessore Quale lui è E tutte le ragazze e ragazzette che venivano a fare la foto con lui Le abbiamo tutte pur come se non ci fossero domani Bene Il video finisce qua E ci vediamo al prossimo video